No, il classico non ci pensiamo neanche lontanamente è inutile pensare a una partita che succederà tra 3-4 settimane, tra mesi la partita importante che abbiamo è quella con il Getafe poi c'è quella di Champions, poi c'è un'altra ancora non serve a niente domandarsi cose che succederanno molto più avanti l'importante è la partita del Getafe che è un campo difficile e che ci è costato molti punti ultimamente a me non importa come stanno andando le cose agli altri importa quello che facciamo noi l'importante è che noi facciamo 9 punti insomma il Madrid poteva prendere ancora di meno e noi ne avevamo 5-6 la differenza era la stessa ma io non sarei stato contento sono contento perché noi stiamo giocando bene, non perché il Madrid gioca male poi ci sono talmente tanti punti ancora in palio che non ha alcun senso fare questi discorsi noi dobbiamo cercare di migliorarsi, partita dopo partita a un certo punto della stagione ci guarderemo anche indietro ora no di sicuro